Ciao, benvenuti a Let's Fail Battlefield 3. Prendiamo una barca. Un jet che sta precipitando. Eee, vedo che stiamo perdendo alla grande. Ah no, no, appena iniziata che stupido. Cecchini? Ho sentito cecchini. Aia. Ma dai! Nel momento dove stavo scendendo, boh. Vabbè. Ehm. Vabbè. Ho già detto che odio i cecchini. Poi, mi sa che siamo noi i cecchini. Che stanno sparando, vero? Il suo un caro armato, aia. Ma che... Adesso, sapete cosa faccio? Vado dritto in mezzo all'isola. Perchè non ho la mia classe? Boh. Vieni qua. Ecco il pronto soccorso. Rientriamo in barca. Almeno ho ricevuto qualche punto per aver curato sto tizio. Un getto in aria e che diamine è un caro armato mi sta sparando un cecchino lì. Lo vedo perchè sono stupidi e si mettono la luce che li rivela e basta perchè al giorno non serve a nulla. Qualcuno sta sparando mi sarà su di me. Appena è arrivato mi devo curare. E a quanto par c'è mezzo qua qualche cecchino. Eh sì. Cecchino intendo con un... Non cecchini normali ma quelli Come mitra. Come fa a beccarmi da quella distanza? Cioè ero in mezzo all'isola e mi piglia. Ah vabbè. Aspetta aspetta aspetta. Nooo. Volevo venire con te. Ok. C è un punto importante perchè è la base aerea del... Eeeh. Eeeh. Ma daiii. Sto facendo schifo. Perchè sto facendo schifo? Nooo. Qua giù c'è... Un car armato. Infatti eccolo qua. Eeeh. Non voglio saltar giù qua perchè lì c'è un car armato. Anche a C c'è un car armato. Ovviamente non riesco a sparare. Prima ovviamente che vengo uccisi. Mio. Ed ha un casino che non volo per io con l'elicotto. Perciò scusatemi se faccio un po' schifo. Ecco qua un bel elico Infatti sta laggando con me Ma che Ma come Non ho fatto Vabbè Ciao Come da niente Mi sa che li sono volati nell'aereo Eccoli L'elicottero che precipita Caro armato Vero Sì infatti l'ho visto tardi L'ho visto nel momento Adesso faccio una cosa Cazzo Non ho visto che sono Mi sa che sto tizio non sa che c'è un po' Armato alle nostre spalle Ahah Oddio Tieni Ok Lì c'è un morto Vabbè non ci arrivo in tempo Perciò Oh aiuto Andiamo Andiamo a darci a piedi Perché Oh merda Mi stavo grattando No Mi stavo grattando veramente Perché non ho paura di dire che Quando muoio Eccetera Perché non me ne porto Però di solito Questo gioco meglio Questo è sicuro Non so Perché Sto giocando così Da merda Di dentro c'è un tizio Boh Sì c'era Perché ho appena visto Come è morto il tizio Non si vedeva Vedete Era tutto buio Comunque sapevo che era lì Oh Cazzo Avete visto Tutti quei punti arancioni Che diamine era Ecco il pronto soccorso Elicottero o aereo Boh Stiamo giù Che non si sa mai Ho usato il momento Mentre Mentre Tizio Il farmato Era cieco Perché Se Potetto Col fumo E Questo mi vede Così Spara Attraverso i muri Ovviamente Perché I colpi venivano Da destra Da sinistra E a sinistra C'è un muro E non Sto capendo Dove sono tutti I nostri cari armati Eccetera Perché Non mi sa Non ce li abbiamo Veri cari armati Mi sa Mi sa che siamo Tutti Boh Medici Perché È l'unica Spiegazione Il ponte È pieno Di Cecchini C'è Oh mio dio Ok Lì C'è un cecchino Lo posso dire Perché Muorono Come mosche Ma non deve Sare per forza Un cecchino A quanto pa Qua ci sono Tutti i nemici Ma anche Tutti i nostri Amici Che Pagli Perché Non riesco A giocare Schermo intero No Sarà Perché Giocavo Su Schermo intero Per esempio Certo Non sto Sentendo L'audio Ok Adesso Si Impiglio La macchina Spero Che non ci sia Ancora Armato Di vicino Volevo Fermare Per gli animali Tizio Ma Non l'ho Fatto in tempo So Io voglio Voglio sapere Come mi fa Becard Con quell'arma Cioè Non penso Che era Lì davanti A me Perché Me ne sarei Accorto E qua Mi sa Mi sono Sicuro Che è impossibile Che mi piglia Da lì Con un Mica Perché La La Gente Lo lascia Qua Non lo so Serve Qui La Non sono Capace A guidare Sto Cosa A quanto Pare E c'è Un tizio Simpatico Che si Mette In mezzo Al ponte Così che Non riesco A passare Molto Gentile Ce n'è Uno Anche Lì Ma Se li scacciano Non è colpa Mia È colpa Loro Perché Si mettono In mezzo E Che Diamine C'è Saltato Via In Tempo Stadi Era mia L'uccisione Eh Vabbè Non ci Sono Non ci Sono Cararmato Non Cargarmi Non ci Sono Non ci Sono Detto Vai Via Ancora Alle mie Spalle No è qua Adesso Mi sa Anzi No È Distrutto Vediamo Malma mia Sta facendo schifo Eh Volevo Dire Se Era Un Cararmato Nemico Sare Stato Fottuto Sarà Tipo La Seconda Uccisione Che Faccia La Torretta Di Una Marche E Cosa Sta Succedendo Cosa sta succedendo Ok Non mi piace Sta cosa Per niente Bastardo Il motivo per cui Odio Le Claymore Occio C'era C'era il tizio Vieni qua Che culo Ho fatto un'opera Di tempo Bravo Anche se mi preferisco allontanarmi da te Perché non ha usato Non ho fatto nemmeno tempo a sparare Poi pensavo non fosse Cioè non pensavo fosse proprio lì Caro armato Caro Caro Armato Purtroppo Non ho la classe dell'ingegnere Con cui Avrei potuto Ripararlo Aramente Peccato Ok Non Non E' giusto Per provare Per prenderlo Non è che Avevo tanta Speranza Di farcela Un tizio che Si parà caduta Cosa Non so come si dice E vedo Che non ho il zoom Perché Non ho il zoom Non lo so Perché è appena sparato Così a caso Nemmeno questo Lo so Ok So che sei lì Da qualche parte E' intelligente Mi corre nel Mirino E' la cosa Più furba Che ho mai Visto Quanto amo Sta gente Muaccaio Dove sei Merda Vediamo Sette uccisioni Già sette Non me ne sono Nemmeno accorto Anche se E' solo Dovrei dire Solo Sette Ok E poi Mi sto chiedendo Perché tu Non hai Il silenziatore Il mio migrino Accorg E perché Il mio caro armato Non ha Il zoom Tu Ma si Non so Cosa cambi No Un attimo Un attimo Pezzatura Il zoom Io uso solo Zoom Perciò Coi caccia Sono una Merda Ottica Zoom Perché Prendo ottica Zoom Perché ho paura Che se Uso I fly Così Non so Come si Chiamano Ho paura Che L'uza Contemporaneamente Il mio Amico Cioè Il Pilota Perciò Gli spetterei Inizialmente Anche se Poi Lo so Si ricarcano Ma Se poi Sono tipo Due Che mirano Su di noi Non farei In tempo Chi Stava Sparando Su di me Poi Cos'è Qua Un Come si Dice Un Una raccolta Di nemici Per dire Per rendere L'ideale Se non so Ci mettiamo qua A ricaricarci Un po' La vita Granata Granata Da Sopra Quanto Pan Non ha servito A nulla Perché non ha sparato Di tic Oste Scacciato Un po' Ma se la pistola Non ha sparato Non capirò mai Ste cose Sarà tipo Un bug Non ne sono nemmeno Tanto Sicuro No Assistenza Erano tutti Nascosti Lì Dentro Mi sa Che pure Uno Ha film Fatto Come Squad Spawn Qua tizio Vuoi Salire Vuoi Salire Sì Ok Adesso Non ero sicuro Se volevo Salire No Adesso Mine Come fa Un scout A mettere Delle mine Non è Il scout Che mette Le mine O si No Il tizio Che mette Le mine È L'ingegnere Ah Forse Ha cambiato Classe Salve Meno Un Cecchino Camper Son Quattordicesimo Ok Ok Cos'è Un antiaereo Vabbè Tanto Non l'avrei preso Comunque Anche se Avessi Tentato Bene Se fossi Tirato Mi sa Che non L'avrei preso Comunque In quel senso Abbiamo Perso Sì Abbiamo vinto E vai 2198 2198 Punti Vediamo Non ho vado Niente nulla Lì Nemmeno lì Nemmeno come caramato Elicottero D'attacco Ancora Vabbè Ci vediamo Al prossimo